Ciao ragazzi, oggi siamo tornati su Youtube, quindi prenderò l'attività solo per comunicarvi con l'ho acquistato da C.Milan. Sbagliare altri cinesi che sono una profumata offerta. Se vi annuncio la prossima campagna, acquisti composti da soli giocatori italiani con una certa esperienza nel nostro calcio e con un basso valore di mercato, vi dico che venderò tutti i giocatori tranne uno, che scoprirete da poco chi è. In porta mi sono affidato la venuta di Stefano Solentino, la coppa di difensori centrali composta da un 2 di ignoranza ed esperienza Cannavale e Dainelli. Tessine di spinta sono Mimmo Crescite e Massimo Gabbi, era l'unico disposto alla città di contatto. Sto regista, non che capitano e l'unico rimanente del Milano di Erno, Riccardo Montolivo. Gli altri due cittocampici saranno Tresmano Padogna, l'espertissimo Escaglia e Bruno Conte. Adesso passiamo a tridente l'attacco delle meraviglie. Adesso torino il castigatore Marco Borriello, finissimi magico Ciccio Piense. La punta di diamante sarà il divino, quasi come me, Davide Moscordelli. Ora sarà l'allenata da Mr. Malesani, meglio conosciuto come Molla. Secondo voi riusciremo a vincere lo scuretto? Scrivete in commento, scrivete inoltre chi vorrà essere come Iserba e mi raccomando solo giocatori italiani. A Stag cambiamo il calcio italiano. A me è tutto, arrivederci.